Ma siccome la mia fidanzata mi ha visto che ero un po' giù di morale, mi ha portato a vedere dei concerti. Li abbiamo visti una cifra, cioè un tot, ma me ne ricordo solo due in modo particolare. Mi ricordo che a quello di Gigi D'Alessio, perché avevamo sbagliato il concerto, ci sembrava un nome inglese, invece era lui. Eravamo là e facevamo Gigi, Gigi. A quello di Vasco, eravamo là così. Yeah, 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 me too.